da qua abbiamo una molto facile che va a recuperare lo stesso principio della presa doppia dove ovviamente strappa e quindi andiamo a fare uno e l'entro ok questa è veramente proprio basica ok strappa uno e uno e rientro ok gioco sullo strattonare anche qua se lui tira e io tiro di gomito non vengo via quindi gomito stretto con le braccia sudate anche nel caso ci sia una bella presa stretta che non riesco a sbloccare in questo modo mi trovo in difficoltà eseguo il numero 2 che va contro la sua attrazione lui tira 1 2 con la presa di capelli quindi 1 2 ok prende giro entro mi appendo tiro verso la cintura e sollevo il ruolo mentre scende il ginocchio e queste qui dovete farle verso sinistra questa è molto semplice questa un pochino più macchinosa perché avete questo giro qua e ginocchiata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti